Asta record a Firenze per il megatartufo di un chilo e mezzo trovato nei giorni scorsi sulle colline di Palaia, in provincia di Pisa. Il super tubero, che è il più grande scovato da 50 anni a questa parte, è stato venduto ad un miliardario cinese che se l'è aggiudicato in collegamento satellitare per la cifra di 330 mila dollari, record mondiale. Il precedente era di 221 mila dollari.